E benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come potete dire C'è questa terra E come potete leggere dal titolo Andremo a Piantare Una pianta Allora Piantiamo una pianta Appunto quindi Per prima cosa dobbiamo rastrellare Con questo Quindi facciamo un buchetto In profondità ragazzi Ok Bene il buchetto c'è Ce l'abbiamo il buchetto E ora andiamo a prendere un po' di semini Secondo Ragazzi andiamo a piantare il convolvolo E questi qui Questi minuscoli Cosetti Sono Non si vede bene perché mi sta mettendo a fuoco La fotocamera Che sarebbe più che altro il telefono E andiamo a metterli tutti nel buchetto Bene Li mettiamo tutti nel buchetto Ecco E ora andiamo a chiudere il buchetto Ok Bene Andiamo a Fare un po' così Allora ragazzi Andiamo A Vabbè Vabbè a piattire un po' tutta la terra E ora È il momento di Innaffiare Allora ragazzi Tira un po' di menticello Quindi E dai Prendiamoci Questo di qua Ok Ora non va più Prendiamo la pipetta Questo qui Che vi sto facendo vedere Molte di queste cose Le trovate Nel giocattolo Cioè Cioè Nel giocattolo Alcune cose sono rosa Perché Era un giocattolo da femmina E quindi ho pensato Perché non farci un video In cui pianto una piantina Visto che casa mia È piena di piantine piantate E quindi L'ho fatto Comunque Questo gioco si chiama È della Clementoni Una marca di giochi Bellissimi per i bambini Che si fanno sperimenti Ok Ora ragazzi Mettiamoci tutto il vasetto Perché sennò Domani mattina Affittiamo Ecco qui Abbiamo Inserito tutto il vasetto Sta gozzolando Tanta No Non devi Gozzolare Non ci posso Credere Ragazzi Ma vedete Sta gozzolando Tutto Ragazzi Funzionerà Tra un paio di settimane Farò uno shorts E vedremo Se la nostra piantina Sarà cresciuta Va bene ragazzi Noi ci salutiamo E ci vediamo In un nuovissimo video Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdervi nessuno I miei prossimi video Vai con la intro Allora ragazzi Ciao 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 Ciao